Io ho una roba sentita, come ho sentito dopo la partita di Iesi, a criticare in malo modo e a offendermi, perché mi hai offeso, io non so a te cosa ti ho fatto, non so cosa è, io ho sempre rispettato tutti e tutti, ripeto, con i miei difetti, giocando bene e giocando male, ma quando uno mi offende in quella maniera lì, io non ci sto, hai espresso parole al limite del ridicolo, imbarazzante, hai detto di tutto e di più, io non sono venuto qui a farmi prendere il piede in giro da te o da qualcun'altra persona, io sono qua a portare avanti un obiettivo in modo equilibrato e giusto, insieme ai miei compagni, i miei compagni vanno rispettati come vado rispettato io, se questo non riesci a capire, perché ci hai offeso in una maniera assurda, e ripeto, assurda, da una persona come te che sinceramente non ti conosco benissimo, ma non pensavo che arrivavi a fare un discorso del genere.